Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari è il titolo del libro di Marcello De Rudas, ricercatore del Dipartimento di Storia all'Università di Sassari, presentato ieri nel Centro Storico nel Sagrato della Cattedrale di Sant'Antonio Abate. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Cooperativa Culturale Castellanese Ammentos, tra i presenti da Francesco Tamponi, responsabile dei beni culturali della diocese di Tempio Ampulias e delegato regionale dell'Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici, e il Sindaco di Castelsardo Antonio Capula. Il libro racconta della storia del Canopoleno di Sassari, dagli albori fino ai giorni nostri, per valorizzare la nostra cultura e le nostre origini, attraverso lo studio e la ricerca. La location non è stata scelta di certo a caso, il Canopoleno di Sassari ha un legame particolare con il borgo medievale, grazie alla presenza del vescovo Lorenzo Sampero, che nel 1600 ha voluto istituire al Canopoleno posti gratuiti per studenti affinché potessero studiare da gesuiti, per essere formati e tornare poi nella città di Castelsardo, nella diocese Ampulias, per riuscire a un servizio di istruzione ed educazione. La nostra storia e anche la nostra forza sono le nostre radici ed è quello che noi dobbiamo coltivare tramite lo studio e la ricerca.